Qua in su e da qua in giù, dove vogliamo? Questo? E' quello che abbiamo trovato giù a piedi di là, ti ricordi che siamo entrati in che in moto che abbiamo attraversato? Avevano fatto tutto quel mestiere qui e poi l'hanno abbandonato alla cazzo. E' questo? O in su o in giù? Dove vogliamo? Eh ma va che sport, hai detto? Oh, in giù sei già arrivato? Sì, sembra. Sì, no la cosa dopo gira eh, arriva lì ma va in giù eh, dopo di qui c'è la stradetta che va giù di là e di lì arrivi giù.